sono le 9 39 e la registrazione in corso bene maria allora nel frattempo che abbiamo sospeso per qualche minuto è arrivato qualche ospite che doveva diciamo con cui dovevamo affrontare il punto all'ordine del giorno non mi risultano la polizia locale vedo giuliano buongiorno la polizia locale l'ufficio uits reparto uits buongiorno e ricordo a tutti che quando parlerà polizia locale dovrò interrompere la registrazione allora la nostra direzione tecnica ancora non è arrivato nessuno no e possiamo fare una telefonata certo mi chiudo il microfono e provvedo grazie 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 io ho provato a chiamare tutti e tre i numeri ma non mi risponde nessuno dei tre numeri abbiamo chiamato scusamare anche la direzione tecnica sì 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 quindi tutti e tre i numeri 801 802 803 803 proprio l'ufficio mobilità maria di chiedere una cortesia di chiamare la presidenza scusa la direzione della direzione ok perfetto direzione la saracino diciamo sì la saracino la segreteria non c'è problema per sapere perché noi vogliamo avere una risposta e siamo diverse persone in attesa e non riusciamo a sapere se qualcuno parteciperà o no inclusa la polizia locale ok un secondo solo mi rimuto grazie nel frattempo ho visto che manuel ho visto che sei entrato anche te non so se sei stato registrato o mi hai sfuggito a me sì ma sì buongiorno parlo con maria grazie sì ok io intanto saluto il presidente paolo barros che momentaneamente si si allontana allora ci ha richiamato la direzione tecnica non ha fatto in tempo a rispondere al telefono dovrebbe collegarsi l'ingegner ventrella ma ha dei grossi problemi di connessione sì maria allora io diciamo cominciò a provare un pochino di imbarazzo quindi non vorrei che rimanessimo tutti così in attesa del nulla intanto poi chiedo scusa in anticipo ai vigili se poi dovessimo ripetere magari brevemente il loro intervento però innanzitutto anticipo qual era il punto all'ordine del giorno allora sono arrivate al sottoscritto ma anche ad altri consiglieri diverse segnalazioni relativamente a appunto all'ingranza l'uscita da spinaceto la presenza di uno stop in piegatuti della liberazione ebbene praticamente quello stop in uscita dal quartiere crea in alcuni orari delle lunghissime file qualcuno dice perché c'è quello stop allora è chiaro che se quello stop c'è ha una funzione specifica non è che qualcuno si è alzato la mattina e lo ha messo per fare un dispetto però vorremmo capire uno naturalmente che ci venga confermata questa cosa due se c'è una possibilità oppure già qualcuno stava diciamo approfondendo un'eventuale soluzione tecnica che possa migliorare l'uscita diciamo dal quartiere in quel punto e quindi evitare delle code o se c'era in atto se c'era qualche consiglio eventualmente da affrontare e vedere se c'era la possibilità di risolvere o migliorare il traffico in quel punto quindi se c'è diciamo la polizia locale non ho capito se il comandante Giuliano anche per lui eventualmente si ci può dare un aggiornamento grazie quindi maria se parla la polizia allora sospendiamo un attimo si si subito allora buongiorno un attimo un attimo ciao